Cari spettatori e appassionati di amici, benvenuti nel nostro canale YouTube. Oggi vi porteremo un interessante aggiornamento direttamente dalla Scuola di Amici, il talent show più famoso d'Italia. Nella Scuola di Amici, non solo gli allievi ma anche i professori stanno lavorando duramente per aiutare i ragazzi a crescere e migliorarsi. In questo episodio, ci concentreremo su un compito molto speciale assegnato dalla maestra Alessandra Celentano all'allieva Chiara. Nel corso dell'ultimo daytime trasmesso su canale 5, Chiara ha ricevuto un compito che ha destato molta attenzione. La lettera della maestra Celentano è stata in parte lusinghiera ma anche critica, mettendo in evidenza alcuni aspetti chiave dell'arte della danza. La maestra ha iniziato con parole incoraggianti, elogiando la preparazione e la versatilità di Chiara. Tuttavia, ha espresso preoccupazione per l'entusiasmo nel suo modo di ballare. Si è chiesta se Chiara abbia bisogno di essere spronata a mostrare più temperamento, carattere, vitalità e nerbo nella sua danza. Alessandra Celentano ha usato l'espressione, Barbie ballerina, per sottolineare la necessità di più sfaccettature nell'interpretazione. Chiara ha ricevuto il suo compito con entusiasmo e si è confrontata con il suo professore, Emanuele per lavorare sulla coreografia in modo da affrontare la sfida nel miglior modo possibile. Se vi appassiona il mondo di amici e desiderate rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie retroscena del talent show, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube. Cliccate sul pulsante di iscrizione e attivate le notifiche per non perdere neanche un aggiornamento. Grazie per averci seguito e ci vediamo al prossimo video.